Il risultato è ancora inchiodato sullo zero, il brasiliano Leonardo al posto del Leonardo, chiuso, Bove intercetta il pallone, serve Eldor Shomurodov, parte il Sharawi davanti a lui c'è anche Tairovic in mezzo, avanza Luzbeko fino al limite, il cross in mezzo, Abram di testa e ancora Lagerac, ma va a parare, Roma è entrata con uno spirito completamente diverso, ci sembra. Secondo tempo, almeno questo ci dicono i primi punti al limite dentro per Abram, in area di rigore un paio di finte, c'è anche Celic, fallo su Abram il tiro poi tentato da Shomurodov, la parata, ma c'era stato fallo, ci sembrava su Abram, non c'è ovviamente. Vai l'appoggio, anzi no, riesce a trovare Tairovic, quindi Shomurodov, serve ancora Bove in avanti per Shomurodov dentro su Abram, alla sinistra per Tairovic, il Sharawi, Shomurodov, il Sharawi, Shomurodov ancora in profondità dentro Abram, l'arrivo anche di qualche altro compagno, palla in profondità, buona per Shomurodov che può andare in velocità contro Nagatani, linea di fondo il cross in mezzo, Abram, molto bene Bove e possiamo ripartire nel contropiede con Shomurodov, uno contro tutti, ne salta un paio, si invola Eldor, punto e limite, c'è anche Abram, ancora Shomurodov, serve Abram, lungo Abram, la tiene in campo, a rimorchio Celic, il tiro fa. Riparte la Roma con Matic per Shomurodov che salta Tiago, avanza Eldor, dall'altra parte c'è Abram, palla profonda per lui, questa volta è buona, lato corto per Abram, palla dentro, ancora per il Bagnez, quindi il Sharawi, Shomurodov sponda su Matic, da sinistra con Shomurodov che putta la difesa avversaria, si sposta a sinistra, rimorchio Bove dentro. Da El Sharawi, poi Shomurodov, El Sharawi che avanza, salta l'uomo, entra in area, c'è anche Abram, appoggia a Di Bagnez, da questi a Shomurodov, tacco per Volpato. C'è lì che interrompe problemi l'azione, Shomurodov dentro per Abram, a destra ancora Shomurodov, va dentro Volpato, in area di rigore, palla per lui, intercettata e poi esce Takeda. La fa sua, anche Fortunoni, per Leo Silva, fallo, sudduri di Shomurodov, calcio di posizione per i padroni di casa, se il direttore di gara, Imamura, darà il recupero, farà finire semplicemente questa azione con Eldor Shomurodov per 3. Eccolo il rimbio di Svilar, Shomurodov sponda verso Abram, Nagatani la laca la tiene lì, Abram la ruba.